Grazie a tutti i miei genitori. Fagli qualche domanda tu dai. Fagli un'intervista per YouTube. Stiamo facendo un'intervista per YouTube. YouTube devi rispondere, spegna. Tu dici YouTube e tu, you know. You know. Fatta. Dai. Abbiamo già finito. No dai, fagli qualche domandina così per i suoi fans. No, no, di solito le prepariamo queste interviste. Allora Mario Chessa, allora Bertas, come stanno andando? Molto bene, per quanto non siamo molto pretenziosi dunque. Ci va bene, poco. Ma stai dedicando, ho visto, alla sinfonia, alle orchestre. State puntando. Mi, tanto, per non annoiarci, non per altro. Tu, Mario, che cosa... Tu suoni il piano? Sì, piano. Pianoforte, anche voce, sì. La pianola si dice, non c'è. La pianola. Pianola, vabbè, corrigimi perché io... Certo, bisogna essere con loro, mi sono in città, mi sono molto felici. Sì, sì. State sempre suonando nelle piazze? Sì, sempre, adesso nelle piazze, poi... a settembre penseremo cosa fare per il prossimo anno, vediamo. C'è qualche cosa bolla in pentola? Sì, qualcosa, ma è meglio parlarne... Legato al sardo oppure anche alla lingua italiana? No, 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 sempre al sardo, ma con... con balletti classici. Questa è una novità, insomma. Bertas, tanzas. Bertas, tanzas, ecco. Questo è un nome da tenere presente. No, comunque, effettivamente c'è un progetto del genere, vediamo un po' di approfondire l'orto... Tu scrivi anche testi? Le musiche. Ah, le musiche. Le musiche, sì. Lui scrive testi. Ah. Pioletta. Come? Pioletta. Ha fatto qualcosa per voi? No, ha fatto... Per tutti quanti, fuorché per noi. Per ora. Per ora, però è sempre in me. Per ora, abbiamo sempre... Se ci aspetta, se ha... Abbiamo sempre un progetto comune. Sì, no, 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 è un ultimo autore. Ha scritto per Paroli, ha scritto per Ambra Pintore, ha scritto per Tan Carui, ha scritto... Elena Letta. Elena Letta. Allora, siamo con due... No, no, no. No, no, no. Vieni, vieni, grazie. Sì, va. Ok. Grazie a voi.